A volte sento dire che Marefori è diventato cult, ma è diventato cult perché... Le posso chiedere dello champagne? Subito. Non lo so se sei più pazzo tu e io che ti vengo dietro. La differenza è fatta. Sei felice? Tantissimo, Pia. Una domanda introduttiva e in realtà però è una riflessione. Cos'era Marefuori quando ci avete messo le mani la prima volta, quando avete aperto il copione? Cosa è diventato adesso, alla terza stagione, con tutto questo successo e tutto questo percorso che avete fatto? Quando ho messo le mani sul copione la prima volta era un biglietto aereo per andare dall'altra parte del mondo ed esplorare una cosa del tutto nuova, una terra inesplorata che potesse far nascere riflessioni, pensieri. Come abbiamo finito di dire poco fa, subito salta all'occhio il tema del carcere di pena minorile che è un tema, come diceva Giacomo, su cui Marefuori, se vogliamo, mette un po' una lente di ingrandimento. E quindi, come quando fai un viaggio dall'altra parte del mondo che torni arricchito di una nuova cultura, di una nuova conoscenza, Marefuori per me è stato questo. L'approfondire una tematica così socialmente attuale e importante. Oggi è sicuramente parte di me perché mi ha insegnato tante cose e perché mi ha fatto conoscere dei giovani talenti di cui sono orgogliosa e fiera come se fossero miei fratelli, non so come dire. Quindi, proprio per tornare al tema del viaggio, è come se fossi tornata con una valigia piena di conoscenza e di conoscenze. È questo. Posso? Ce l'ho, se non mi scappo, perché se non mi scappano le risposte. Allora, la prima volta, sia Carmine Elia, che è stato regista della prima stagione, che Milena Cocozza, che è stata la co-regista della seconda stagione, parlando appunto del lavoro che avremmo dovuto fare, comunque del progetto, ci citarono un film che era Mary per sempre. E Mary per sempre io credo che sia stato un altro grande esempio di come si può raccontare una realtà difficile raccontando delle realtà interne, quindi personali già di per sé difficili. E c'è una scena in particolare che mi piaceva molto in Mary per sempre, che è la scena dove i ragazzi stanno giocando a pallone, il custode si arrabbia, gli viene tolto il pallone e loro continuano a giocare a pallone facendo finta di avere comunque questo pallone. Secondo me è stato questo un pochino l'inizio di Mare fuori, ovvero dover raccontare una realtà molto difficile, lavorando sicuramente di fantasia, perché nessuno di noi ha avuto la sfortuna in questo caso di finire all'interno di un sistema carcerario. E raccontare una partita di calcio senza pallone è un pochino quello che abbiamo fatto noi, ovvero raccontare una cosa estremamente importante, come può essere anche una partita, ma è importante come la nostra generazione, come questa realtà, farlo con le nostre mani e cercare di dare il massimo della verità in questo progetto. E sicuramente divertirci nel farlo, perché questo è stato un passaggio importante. Carmine ci disse di non pensare a quello che sarebbe stato Mare fuori all'inizio del lavoro. Proprio in lettura ci ha detto non pensate al dopo, all'uscita, ai numeri, alla serie, pensate soltanto che avete in mano una responsabilità, che è la vita del vostro personaggio, quindi la vita di un carcerato, e la dovete raccontare, cioè la dovete tramandare a qualcun altro. Quindi Mare fuori è stata all'inizio una grande sfida, una grande responsabilità. Ad oggi, secondo me, è anche un bel successo, sia per i registi che ci hanno lavorato, insomma hanno contribuito tanto, c'è stato un grande corpo dietro che ha lavorato con passione a questa macchina che è Mare fuori, oggi come oggi. E poi, insomma, ha dato il via ai tanti bei sogni, sicuramente ai nostri, e poi spero anche a quelli di chi ci ha guardato, ecco, quindi questo è un grande bagaglio sicuramente. Allora, Mare fuori, sicuramente quando mi sono ritrovato per la prima volta, la sceneggiatura tra le mani è stata l'occasione che aspettavo da una vita di studi e sacrifici, e quindi mi sono ritrovato con tutti questi ragazzi per continuare sulle metafore che si stavano facendo, un po' a dover costruire questo palazzo nuovo, nessuno conosceva il risultato finale. La cosa che ci ha contraddistinto è stata la passione che ci abbiamo messo tutti nel cominciare questo lavoro. Adesso la differenza è che c'è l'orgoglio di quello che abbiamo costruito e la voglia di continuare ad aggiungere tasselli, ad arredare questo palazzo al meglio. Penso che ognuno di noi se lo ricorderà sempre con tanta passione e un punto di riferimento della nostra vita. Allora per me è stato correre a casa in lacrime da mia mamma e miei nonni e dire che ce l'ho fatta, ho avuto una possibilità, una possibilità. Però su che cos'era Mare fuori, siccome hanno già un po' detto tutto loro, ti vorrei riportare un esempio, un episodio. Siamo stati a Nisida un po' di tempo fa durante la prima stagione, più o meno a metà alcuni di noi e facciamo vedere ai ragazzi Giulietta e Romeo, una scena di Giulietta e Romeo e quando abbiamo chiesto chi voleva provarlo, un ragazzo in particolar modo che avrebbe dovuto fare la parte di Romeo si era rifiutato dicendo che non era una cosa da uomini. Poi siamo usciti fuori e l'abbiamo scoperto dietro un angoletto che ripeteva le battute da solo. E quindi forse in quel momento abbiamo capito qual era il potere di Mare fuori e forse qual è il potere e il compito di fare questo mestiere. Hai fatto una bellissima domanda perché mi hai acceso lampadina in ricordi che va. No, perché mi hai acceso un casino di roba. Io ero un bambino quando probabilmente ho approcciato al progetto con una inconsapevolezza assurda per fortuna che è un'inconsapevolezza che è diventata a un certo punto una scelta. Cioè cerco di portarla in ogni progetto che faccio e anche in Mare fuori 2, in Mare fuori 3 e quindi per me ieri ed oggi è stato un percorso di crescita in generale, artisticamente, umanamente. Poi il fatto che nella nostra inconsapevolezza sia diventato un punto di riferimento all'interno del nostro sistema, anche della nostra cultura. A volte sento dire che Mare fuori è diventato cult, ma è diventato cult perché? Cosa racconta? E quindi ha un potere mediatico non indifferente, ma perché racconta certe cose in un certo modo. Quindi con una totale inconsapevolezza, partendo da zero ogni volta, che poi secondo me è la vera umiltà, no? Cioè non riconoscersi e basta le cose. Riconoscersi le cose è giusto perché uno ci lavora ed è giusto dire sai che c'è? È andata così o perché abbiamo fatto bene? Ma la vera umiltà è dire ok, piedi per terra, ripartiamo da zero. Quello intendo con inconsapevolezza. Che c'è dalla prima e secondo me sotto certi punti di vista è diventato poi un aspetto trasversale di questo progetto. Mare fuori. Mare fuori per me è andato quasi per gioco, quasi per caso. Mi ha aperto gli occhi sul talento che avevo. Perché io non sapevo, non pensavo di essere capace. Non credevo che fossi capace di interpretare questo personaggio oppure fare un progetto del genere. Per me è stata una grande scuola di recitazione dove ho potuto imparare direttamente lavorando. Come si dice a Napoli, Don Baro Messiere, no? Per me è stata un po' così e credo che queste bellissime esperienze è stata soltanto una preparazione per qualcosa di ancora più grande. Quindi sono grato a tutto quello che sta accadendo, del successo e di come è cambiata la mia vita. Perché la vita è meravigliosa e non sai cosa ti aspetta domani. Ma bisogna crederci, avere sempre fede. Grazie ragazzi. Ho fatto una domanda che vi ha preso tutto il tempo, però dai. E valsa la pena. Grazie. Grazie mille. Grazie.